Cronaca ha individuato il piromane di Piano Solare e un trentenne residente in zona. Incendi proseguono i controlli del Corpo Forestale e dello Stato dopo il fermo di un ciclista sospetto. Ater Marco Pierangeli sostituito a sorpresa al suo posto Armando Rampini. Regione pericolo scampato per il Braga grazie a noi, lo dicono D'Ignazio e di Dalmazio. Giulianova sabato torna la notte bianca, tra gli altri il concerto di James Senese. Sport, calcio e biancorossi di Vivarini si godono tre giorni interi di relax. Si torna al lavoro domenica prossima. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con il nostro telegiornale. La squadra mobile di Teramo ha individuato il piromane di Piano Solare a Teramo e un trentenne residente nella zona. E' indagato in stato di libertà per il reato di incendio doloso e particolari nel servizio. La squadra mobile di Teramo guidata dal dottor Gennaro Capasso ha individuato il piromane che nella notte tra il 10 e l'11 agosto scorsi si è reso responsabile di tre attentati incendiari nel quartiere di Piano Solare a Teramo. Si tratta di un trentenne, DFG le sue iniziali, residente nella zona e già conosciuto dalla Polizia per atti di violenza. Le indagini avviate e portate avanti dalla squadra mobile hanno permesso di circoscrivere le ricerche del piromane in un gruppo di giovani della zona di Piano Solare. Per arrivare ad identificare l'autore la Polizia si è avvalsa della visione dei numerosi filmati di videosorveglianza degli edifici vicini ai luoghi in cui ha operato il piromane. Ieri mattina gli agenti della mobile Teramana hanno perquisito l'abitazione del giovane e qui sono stati acquisiti elementi utili alle indagini. Il trentenne è stato poi accompagnato in questura per essere sentito in merito ai fatti accaduti e le dichiarazioni rese sono sembrate contraddittorie per la Polizia. Con i filmati di videosorveglianza acquisiti, gli inquirenti hanno monitorato gli spostamenti del giovane e le sue dichiarazioni non hanno trovato riscontro, secondo i poliziotti, nelle immagini visionate. A conclusione dell'attività investigativa, essendo emersi a giudizio degli agenti della mobile gravi indizi di reato, il trentenne è stato indagato in stato di libertà per il reato di incendio doloso. Il trentenne sarebbe così responsabile dei tre focolai di incendio di natura dolosa registratisi nella notte tra il 10 e l'11 agosto scorsi. Il primo ai danni di una Fiat Punto parcheggiata in via Barnabèi, il secondo all'interno del giardino dell'asilo Nidola Coccinella, interessando uno scivolo per bambini, e il terzo all'interno di un garage di un condominio di via Barnabèi. Qui le fiamme hanno distrutto uno scooter e interessato due auto parcheggiate vicino al mezzo. In questo caso il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben peggiori. Restiamo in tema e occupiamoci di un altro piromane, perché se è stato possibile individuare colui che si ritiene possa essere l'autore di numerosi roghi nel Parco Gran Sasso e in Monti della Laga, è grazie ad un reparto del Corpo Forestale dello Stato, il NOS, che vigila sul territorio il servizio. Quello che vediamo è il reparto del NOS, potremmo definirli degli angeli custodi del nostro territorio. Esatto, il NOS è l'acronimo del nucleo operativo speciale, temporaneo perché viene attivato qui presso il Comando Provinciale solo durante l'estate, quindi per far fronte alla stagione di massima pericolosità per gli incendi boschivi. È ordinariamente formato da quattro unità e loro sono le quattro unità che hanno operato, proprio l'altro ieri, in occasione dell'incendio e quindi del rilevo del probabile autore di questo rogo. Ed è coordinato da un ispettore, che è l'ispettore Di Macco, che è anche comandante la stazione di Rocca Santa Maria, e poi è formato da altri, da altro personale proveniente da Cambri e qui dal Comando Provinciale. Al centro invece troviamo il commissario, il dottor Testa, che dall'ufficio, dalla sala operativa dell'ufficio, ha coordinato quest'operazione, quindi coordinando proprio l'attività del NOS, avendo ricevuto la segnalazione da parte della sala operativa regionale. Quindi qui c'è tutto il ciclo che l'altro giorno ha prodotto il risultato di spegnere i vari roghi e di scoprire l'autore. Naturalmente è un'attività che prosegue ogni giorno. Tutti i giorni sono qui fino alla cessazione del periodo di massima pericolosità. E questo noi lo possiamo attivare grazie a una collaborazione in convenzione con la Regione Abruzzo, che ovviamente nel periodo di massima pericolosità, essendo lei titolata allo spegnimento a terra, ovviamente attiva sia il Corpo Forestale dello Stato, ma anche altre amministrazioni, come i volontari, come altre amministrazioni dello Stato, e quindi li predispone, li attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi. Poi abbiamo tutto l'apparato dall'alto, che è l'apparato statuale che nasce dal COAU, dalla Protezione Civile, che invece fornisce il concorso aereo. Però è il DOS, sempre del Corpo Forestale dello Stato, di qualifica più elevata, che sul posto dell'incendio coordina tutti questi apparati, quello aereo e quello a terra. E adesso la cronaca. E di otto feriti di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte a San Salvo, nella zona industriale. Un furgone Opel Movano, adibito al trasporto passeggeri per cause, ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è finito contro gli alberi di una pineta in via Libero Grassi, ribaltandosi. A bordo c'erano otto ragazzi, tutti minorenni, in un'età compresa tra i 13 e i 14 anni, uno dei quali ha sottratto il mezzo al padre, titolare di un'impresa edile, per scorazzare con gli amici. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 di Vasto, della Misericordia di Termoli e della Protezione Valtrigno. I ragazzi sono stati ricoverati negli ospedali di Foggia, dove è stato trasferito il più grave, che proprio il 13 agosto ha compiuto gli anni, ed è tuttora sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Gli altri a Lanciano e a Termoli, comproni e si che vanno dai 30 ai 40 giorni. Sono entrati nei locali di un ex negozio di arredamenti, il cui muro divisorio comunica con la sede di Banca di Teramo, a Tortoretto Lido, sulla statale 16 adriatica. I ladri speravano di impossessarsi del bottino custodito in cassaforte, che pare superasse i 150 mila euro. Invece hanno dovuto desistere, con una mola una volta dentro. Hanno tagliato la lega di cui è fatta la cassaforte, ma hanno trovato un'altra resistente lastra, che proteggeva il contenuto in denaro, e sono fuggiti. Il tentato furto è avvenuto nella notte, tra lunedì e martedì sono al vaglio le immagini delle telecamere. Ieri pomeriggio, la decisione della giunta regionale. Marco Pierangeli sarà sostituito alla guida dell'Ater. L'ormai ex presidente dell'Ater lascerà l'incarico il 24 agosto, quando ci sarà l'effettivo passaggio di consegne all'architetto Armando Rampini. Lascio un Ater migliore di come l'ho trovata, ha dichiarato Pierangeli, sono stato sostituito non certo perché non ho svolto bene il mio compito, ma perché sono stato da sempre scomodo al centro-sinistra. Pierangeli assicura che non ricoprirà più incarichi politici. Ma ascoltiamo l'intervista. Marco Pierangeli non è più il presidente dell'Ater. Al suo posto è stato nominato l'architetto Armando Rampini. Si tratta di Spol System? Formalmente non l'hanno messa nella logica dello Spol System, però di fatto sono il primo amministratore nominato dalla passata giunta Chiodi ad essere sostituito e questo è un primato del quale mi onoro. Per quale ragione, a suo parere, l'hanno sostituita? Soltanto una logica di natura politica. Io che qui all'Ater ero scomodo al centro-sinistra, si è visto nel corso di questo quinquennio, quando sono stato più volte attaccato ingiustamente dai consiglieri regionali di allora. Ingiustamente l'hanno dimostrato i fatti di cronaca appunto. Che Ater lascia Marco Pierangeli? Sicuramente meglio di quella che ho trovato. La situazione dell'Ater era una situazione stagnante, non costruivano più, non realizzavano nuovi edifici, noi in questi cinque anni abbiamo riattivato la politica della casa utilizzando tutti i finanziamenti a nostra disposizione, rispondendo a tutti i bandi regionali per le nuove costruzioni. L'Ater ha in questo momento un patrimonio di 11 milioni e mezzo di finanziamenti pubblici da dover ancora spendere dovuti a questi cinque anni di gestione. Non sono un risultato sicuramente da poco. Inoltre sotto il profilo del bilancio, quando sono entrato all'Ater, anche se non l'ho espressamente detto, l'azienda aveva scoperti sul conto corrente della gestione speciale per 3-4 milioni di euro e scoperti sulla spesa di investimento per 4 milioni e mezzo. Sono stati interamente coperti questi costi. Abbiamo rimesso a posto il bilancio perché nonostante le perdite di esercizio degli anni 2012 e 2013, se si vanno ad analizzare i bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 e si vedono le somme accantonate sui bilanci, si vede che l'accantonamento è superiore alla perdita. Quindi è inutile stare a cavillare su un anno se c'è la perdita sul consuntivo, ma bisognerebbe fare un bilancio quinquennale. Nel bilancio quinquennale sicuramente gli utili e gli accantonamenti sono superiori alle perdite. Il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano D'Amico, è dunque il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARPA, l'azienda regionale del trasporto pubblico, la cui quota maggioritaria è della regione. D'Amico succede a Massimo Cirulli, dimissionario in carica dal giugno 2012. La decisione è stata presa nel pomeriggio di aeri dall'Assemblea dei Soci su proposta del presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso. D'Amico, raggiunto da noi al telefono, ha detto di essere molto contento per la nomina e ha detto di considerarla come un grandissimo attestato di stima da parte del governatore e di tutti i componenti dell'Assemblea dei Soci. Sono pronto, ha detto il rettore dell'Università di Teramo, nonché presidente del Braga, ad impegnarmi al massimo per questo nuovo incarico. Per il Braga scampato un altro pericolo. Di Dalmazio e D'Ignazio ne rivendicano il merito e accusano la maggioranza. Sentiamo. Tagli al Braga, in pratica non ci saranno. Rivendicano la paternità della controdecisione del governo regionale i consiglieri regionali Mauro Di Dalmazio di Abruzzo Futuro e Giorgio D'Ignazio del nuovo centrodestra. Sventata, speriamo definitivamente, l'azione della maggioranza, dicono i due consiglieri regionali teramani, che determinava la sottrazione delle risorse destinate a primari istituti culturali abruzzesi, tra cui il liceo musicale pareggiato Braga di Teramo. La maggioranza, infatti, ha smentito se stessa, scrivono i rappresentanti della minoranza. Prima, infatti, ha affermato che le variazioni di bilancio afferenti alla cultura erano necessarie per ottemperare a disposizioni perentorie dell'Unione Europea. Poi, però, incalzata dagli emendamenti presentati dall'opposizione in commissione, propone un sub-emendamento con il quale fa una clamorosa marcia indietro. Delle due l'una, o c'è stata un'approssimativa lettura delle disposizioni, e sarebbe gravissimo, dicono Di Dalmazio e D'Ignazio, o c'è stato un maldestro tentativo per fortuna sventato, grazie ai nostri sub-emendamenti e alla dura opposizione proposta per ricondurre quelle risorse alla gestione assoluta della Giunta, con grave danno per storiche istituzioni culturali abruzzesi. Tutto ciò denota un approccio preoccupante ai problemi e alla individuazione delle soluzioni, proseguono i due, caratterizzata da presa pochismo e strumentalità, che nel caso di specie avrebbero potuto mettere in discussione addirittura l'esistenza stessa di queste istituzioni, a difesa delle quali non abbiamo sentito i tanti esponenti del centro-sinistra che oggi hanno ruoli centrali nel governo della Regione e che nella passata legislatura si stracciavano le vesti e presidiavano da paladini ogni piazza, concludono Di Dalmazio e D'Ignazio, per richiedere sostegno per quelle istituzioni che, nel momento in cui sono andati al governo, hanno di contro tentato di mettere in gravissima difficoltà. E all'Aquila è in corso il Consiglio regionale. Si allineano le posizioni delle opposizioni all'inserimento della figura del commissario ad acta prevista dal progetto di riforma dei servizi della Regione Abruzzo. Il no di Mauro Di Dalmazio, di Abruzzo Futuro, è motivato dal fatto che, così come prevista, la norma identifica una figura politica nel commissario. È una forzatura, dice, perché definisce una figura di stampo politico nelle mani della Giunta, cioè del potere esecutivo sul potere amministrativo. Noi non accetteremo mai che l'Abruzzo diventi un ducato dove comanda una sola persona, cioè l'Alfonso. E la posizione in questa del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, in merito alle variazioni dello statuto della Regione che verranno discusse nel pomeriggio. Chiariamo subito che non siamo contrari a nessuna riforma per rendere più efficiente la macchina pubblica, ma i commissari ad acta proprio no. Per l'aspirante e sottosegretario, la presidenza Camillo D'Alessandro, del PD, le critiche sono ridicole e inutili. Tutti dicono di cambiare. Abbiamo accolto i suggerimenti delle opposizioni, ma ridurre la riforma solo a commissario non va bene. Il tema che sta a cuore agli abruzzesi è chi decide. La figura viene istituita perché, se una pratica si ferma, la evoca a sé. Il tutto senso aumenta di spesa, conclude D'Alessandro. Un'altra volta Scelta Civica di Roseto chiede le dimissioni del sindaco di Roseto, Ennio Pavone. Quanto denunciato pochi giorni fa da Scelta Civica Roseto sullo stato di caos nel quale versa la maggioranza del sindaco Pavone, trova conferma, si legge in una nota, nelle dichiarazioni del consigliere Marini, riportate sulla stampa. L'arroganza del sindaco Pavone nei confronti dei cittadini si manifesta ormai quotidianamente, dato che si ostina a parlare di maggioranza coesa nonostante le dimissioni del vice sindaco Alfonso Montese. Le minacce di dimissioni dell'assessore Recchiuti è l'ultima dichiarazione rilasciata da un consigliere di maggioranza dalla grande esperienza politica. Abbiamo davanti agli occhi il fallimento di Pavone, conclude Scelta Civica. Ma cambiamo completamente argomento. Domani, come è noto, è Ferragosto e si prevede un Ferragosto in città per numerose persone che approfitteranno magari per andare a pranzo fuori. Diversi ristoranti, bar, parmifici saranno aperti in città e anche a Teramo. Sentiamo. Domani è Ferragosto e tante persone decidono di restare in città o anche alcuni turisti decidono di visitare le città. Come Marcello Schillacci con la sua cantina vivrà questo giorno all'insegna del buon cibo? Intanto noi è un servizio che abbiamo sempre dato da anni, siamo sempre stati aperti con qualche volta molto successo, qualche volta un po' meno, però abbiamo sempre tenuto aperta la nostra attività proprio per questo aspetto turistico che ha la cantina. Il prossimo Ferragosto, cioè quello che verrà domani, è un Ferragosto che si prospetta una buona giornata, abbiamo già delle prenotazioni, penso così anche con i miei colleghi, il mio collega Paolo Pompa è aperto e anche lui e diciamo pare che ci siano delle buone prenotazioni. Sembra che molti ristoranti, molti bar, molte pizzerie restino aperte anche a Teramo nel giorno di Ferragosto. La media nazionale è dall'80% e altrettanto accadrà a Teramo. Purtroppo questo è un dato dovuto anche alla crisi, non c'è tutta questa voglia di uscire, non c'è anche l'operatore, ormai ci si attacca anche alla 5 euro, per cui è normale che si tendi di lavorare ogni giorno e sempre. Speriamo che si torni a una epoca migliore, dove veramente uno possa prendersi le meritate ferie. E allora, se le ferie non ci se le può prendere, però si può degustare un ottimo piatto, cosa prevede il menù di Ferragosto? Noi non ci allontaniamo molto dal nostro menù tradizionale, anche perché chi viene qui viene per mangiare quello, comunque c'è questa tradizione del timbalino di Ferragosto. E poi? E poi il solito menù nostro, diciamo spezzatini, mazzarelle, e tutto quello che offre la cantina. Insomma, anche se in città, però, il palato va sempre coccolato. Assolutamente sì. Restiamo sul Ferragosto, perché un grande party è in programma alla piscina all'aperto della Gamma Rana a Teramo, dove le associazioni sportive Rarinantes e Acqua Viva Nuoto, che hanno in gestione la struttura, daranno vita ad un ricco programma ricreativo allestito a Borgo Vasca per i visitatori. Dunque domani, dopo la celebrazione della Messa in programma alle 10.30, la giornata proseguirà con animazione, giochi in acqua per i bambini e un frutto a parte a pranzo. Alle 16 si prosegue con una gara di briscola a coppie, ed alcune lezioni di tuffi guidate dal maestro federale Riccardo Leone. Alle 17 in programma, infine, una mega staffetta e alle 18 l'estrazione della lotteria sociale. Le tariffe per l'ingresso alla struttura restano invariate. Per la festa di Ferragosto, l'impianto resterà aperto venerdì dalle 9 alle 19.00. Aiutare la respirazione di un ragazzo colpito da fibrosicistica con l'uso di uno strumento musicale a fiato. Per lanciare questa sperimentazione si è tenuto un concerto ad Atri dal titolo Respiro con i Fiati. Vediamo. Si è svolto nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Atri il concerto di beneficenza Respiro con i Fiati, promosso dalla Lega Italiana Fibrosicistica Regione Abruzzo-Onlus, in collaborazione con il Comune di Canzano, l'associazione musicale Dino Marsili Banda Città di Canzano e con il patrocinio del Comune di Atri. L'obiettivo? Sperimentare la pratica di uno strumento musicale a fiato quale integrazione o, se possibile, in sostituzione delle tecniche di disostruzione bronchiale cui i piccoli e giovani pazienti devono quotidianamente sottoporsi per migliorare la loro capacità aerobica. È venuto fuori uno studio in cui si è potuto constatare che l'utilizzo di uno strumento a fiato possa essere di un notevole supporto per agevolare le terapie respiratorie e in qualche caso anche sostituire. Quindi noi come Lega, oltre a promuovere attività di qualsiasi altro genere come le attività sportive, cerchiamo di sostenere questo progetto possibilmente cercando di poterlo mettere in campo nel prossimo futuro, sperando di avere a disposizione dei pazienti che si possano occupare lì, che possano dedicarsi a queste situazioni. Negli ultimi anni c'è stato un impulso notevole alla ricerca di una malattia finora non curabile. Negli ultimi tempi sono venute fuori delle possibilità terapeutiche insperate fino a tanti anni fa. Diciamo che ancora non è la strada completamente aperta, però si sono creati i presupposti per poter vedere i nostri pazienti curati. Finalmente la malattia è molto impegnativa. Si inserisce bene in questa serata anche per far conoscere questa patologia in quanto stiamo cercando di avere attivato nella nostra regione lo screening neonatale che è una modalità di diagnosi precoce importantissima che vede l'Abruzzo un po' in ritardo. Speriamo che si venga a capo di quest'ultima cosa. Ed è stata presentata nella sala consigliare del comune di Giulianova la Notte Bianca che si svolgerà sabato prossimo, 16 agosto. Oltre 30 spettacoli, più di 10 location, 100 artisti che animeranno la Notte di Giulianova. Tra gli altri James Senese e il comico Vincenzo Olivieri. Si è come il servizio. Tutto pronto per la Notte Bianca 2014 di Giulianova che si appresta, sperabilmente, a avvissare il successo delle precedenti edizioni quando fece registrare tra le 80 e le 100 mila presenze. Francesco Pecorale Notte Bianca, il 16 agosto si comincia il pomeriggio intorno alle 18 per finire alle 5 di mattina. Quali gli eventi, quali le manifestazioni e quali soprattutto i momenti clou? Allora, quest'anno avremo oltre 30 concerti con 100 musicisti che arrivano, invadono Giulianova con ognuno con la propria arte e il proprio mestiere. Anche quest'anno, quarto anno, speriamo di riconfermare la presenza dell'anno scorso. Vorrei citare il programma velocemente. Vabbè, quest'anno avremo il grande James Senese con Napoli Centrale, che occuperà il palco centrale a Piazza d'Almazia. Poi distribuiti negli altri 5 palchi ci saranno Diaframma, Vincenzo Olivieri, Gianni Schiuma, IT Rock, Hip Hop Generation e la mega discoteca che ci sarà a Piazza d'Almazia. A Gianluca Marcellusi, che è uno dei due organizzatori, quali sono le aree parcheggio per facilitare la presenza degli ospiti? Per le aree parcheggio ricalchiamo, insomma, il progetto dell'anno scorso. Quindi, bene o male, restano quelle, le zone del paese vicino all'ospedale, quelle antiestanti allo stadio. A Lido ci sarà il parcheggio del centro commerciale Portici e dell'ex colonia Rosa Maltoni. Queste sono le aree parcheggio preposte, ovviamente tutto gratuito, non ci sono parcheggi a pagamento. Si svolgerà invece il 23 agosto dalle 21, presso il campetto del parco Cechevara di Impagliare di Morodoro, la Notte Rosa. Il ricco programma prevede esibizioni di ballerine di danza moderna, contemporanei pop, dimostrazioni di difesa personale, canto, musica dal vivo, proiezioni di cortometraggi e tanto altro. La sagra del vino, della salsiccia, del formaggio Pecorino di Torano ha preso il via il 12 agosto, terminerà il 17. Vediamo. Il presente e il futuro di questi giorni passano anche attraverso la sagra di Torano Nuovo. Il neo sindaco tiene a battesimo questa 45esima edizione di quella che possiamo considerare essere l'evento sagraiolo più famoso del Terramano. Alessandro Rigiacinto, una bella soddisfazione poter inaugurare questa 45esima edizione, quasi 50 anni, quasi mezzo secolo e non dimostrarli. Sì, la nostra è ancora una sagra giovane, diciamo, perché ogni anno si cerca di mantenere, di coniugare la tradizione con la qualità. Questi 45 anni non si sentono, nel senso che la gente ogni anno l'aspetta sempre più intensamente. In agosto sono tanti i VIP che sono venuti ad omaggiare Torano Nuovo, a partire dal sanatore Razzi, se l'aspettava? Sì, l'ho sentito stamattina telefonicamente. Lui era un appassionato della sagra di Torano e ha voluto intervenire. Quindi noi siamo stati ben lieti, anche perché è un personaggio, diciamo che è un personaggio. Un politico è un personaggio. Oggi tra l'altro anche in lieta compagnia del baby sindaco, quello che noi diciamo essere poi il futuro di questa città. per te è un po' di emozione, però è una bella esperienza. Sì, sì, è una bella esperienza per me, essere il baby sindaco di Torano. Voglio augurare a tutti quanti una felice serata e una buona 45esima sagra, che ogni anno è sempre una delle più amate d'Abruzzo. E adesso le previsioni del tempo, come sempre con Meteotaramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso, con possibili temporali sui settori orientali. Poco nuvoloso lungo la dorsale appenninica. In serate nella notte poco nuvoloso sulle zone adriatiche, poco nuvoloso sui rilievi. Temperature in diminuzione massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle conche Aquilane Marsicane, tra 29 e 32 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli settentrionali, mari calmi o quasi calmi. In provincia di Teramo, nel pomeriggio, schiarite a partire dalle aree montane e colinari. Tra sera e notte rasserenamenti estesi. Temperature in diminuzione massime comprese tra 29 e 32 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 28 e 31 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati settentrionali, mari mossi o poco mossi. E adesso siamo allo sport. Il test disputato ieri pomeriggio abbellante contro la Torre S ha rappresentato anche l'ultima fatica pre-ferragostana per il gruppo Teramano. Da oggi, infatti, i giocatori potranno godere di tre giorni pieni di relax. Ci si ritroverà direttamente domenica 17 a pranzo prima di tornare a sudare sul campo nel pomeriggio dalle ore 17. La prossima settimana, tra l'altro, dovrebbero essere comunicati della Lega Pro giorni e orari relativi alle prime gare di campionato. E a proposito di campionato, ascoltiamo Diakite. Allora, esordio subito contro una delle grandi del prossimo campionato, il Pisa. Sì, è vero che abbiamo visto il sorteggio, giochiamo la prima partita contro il Pisa. Va bene, una squadra come le altre, dobbiamo preparare e pensare al lavoro che dobbiamo fare in campo e essere pronto all'esordio, diciamo. Avendo visto il calendario, certo non è che serviva a questo, ti sei fatto un'idea proprio del ruolo che potrà recitare il Teramo? No, io la verità è che non ho guardato troppo il calendario, perché alla fine noi dobbiamo pensare solo a noi, a fare il lavoro e tutte le squadre sono uguali. Se noi facciamo bene in campo possiamo giocare contro tutti. La sconfitta di Bolzano? La sconfitta, è vero che c'è un gusto un po' amaro, però ci dà l'opportunità di lavorare ancora di più per preparare il campionato. Tu come stai? Io sto bene, perché è vero che vengo da un infortunio da un anno, però con il staff medico e il prof facciamo un bel lavoro e piano piano riesco a ritrovare il mio livello. Tu hai detto di aver scelto il Teramo, soprattutto perché c'era l'allenatore Vivarini, che conoscevi, hai ritrovato quel gioco che conoscevi? Sì, sì, è vero, quando sono arrivato, già a livello tattico mi sono ricordato del lavoro che facevamo già con l'allenatore e subito mi sono mostrato bene tecnicamente con il lavoro che chiede il mister. Ieri il Giulianova ha battuto per 3-0 il Fontanelle, con pagine di promozione guidata dall'ex Genaro Grillo, nell'amichevole non ufficiale disputata al Fadini. Rete e recchiuti sul rigore, sborgia nel primo tempo il giovanissimo Marozzi nel secondo tempo. De Feudis ha schierato un 4-3-3. Il tecnico ha in programma di far disputare una partitella in famiglia sabato mattina alle 10 al Fadini e Gialorossi. Per quanto riguarda invece il basket, restiamo a Giulianova. Dopo la conferma di coach Francani, la Globo Giulianova inizia a mettere anche i primi tasselli per quanto riguarda il capitolo giocatori. Il primo è confermatissimo Danilo Gallerini. Sotto le plance andrà anche Rudy Diner alla centro di qualità. Nelle ultime tre stagioni tra Pescare e Campli, con medie superiori alla doppia cifra. Per gli esterni invece si è voluto puntare su Andrea Pastore. Guardia, classe 1994. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna alle 19 e 15 con Rino Orsatti. Grazie per l'attenzione e soprattutto buon Ferragosto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.